Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Benvenuti e bentornati alla nostra serie La catena profetica di Dio Questa è la puntata numero 9 Quindi abbiamo quasi finito Questo video si intitola Una frase che proviene da Daniele 12, verso 1 Che studieremo oggi, se Dio vuole Ma prima di studiare dobbiamo chiedere la speciale benedizione del Signore Quindi vi invito ad inchinare la testa Padre Celeste, come studiamo gli eventi che accadono Dopo la fine del tempo di prova E prima del secondo ritorno di Cristo Chiediamo la presenza del Tuo Santo Spirito Signore, sappiamo che arrivano tempi difficili Ma sappiamo anche che il popolo di Dio sarà salvato Tutti quelli che sono scritti nel libro Ti chiedo di incoraggiarci con ciò che studiamo oggi E di stare con noi sino alla fine di questa serie Con la Tua gloriosa salvezza futura Padre, ti ringraziamo della promessa della Tua presenza E te lo chiediamo nel prezioso nome di Gesù Amen La Chiesa avventista ha delle credenze uniche Che, per quello che so, non ha nessun'altra denominazione cristiana Una di queste particolari credenze avventiste È la dottrina del giudizio investigativo precedente al ritorno di Cristo In cui Gesù esamina i casi di ogni persona Che dice di credere a Gesù Cristo Da Adamo all'ultima persona Quando termina il giudizio investigativo Questo giudizio è composto da tre fasi Proprio come nella Terra Innanzitutto c'è un'investigazione delle prove Nel giudizio secolare Prima si investiga sulle prove La seconda fase del giudizio È il verdetto proclamato in base alle prove Il verdetto può essere colpevole o innocente Nella terza fase c'è l'esecuzione del verdetto Ovvero, l'esecuzione del verdetto Dato alla fine dell'investigazione Ora, c'è un anello della catena profetica Che non abbiamo ancora visto Perché questo particolare anello della catena È un evento che non avviene nel mondo Ma nel cielo Innanzitutto, riassumiamo la catena profetica E vedrete che tutti gli eventi che abbiamo descritto Accadono nel mondo C'è Babilonia La Medo-Persia La Grecia L'impero romano L'impero romano diviso Il piccolo corno per 1260 anni La ferita mortale La bestia che sale dalla terra Ovvero, gli Stati Uniti L'inattività del papato Per più di 200 anni E poi la guarigione della ferita Sono tutti eventi che accadono nel mondo Ma l'anello che non abbiamo studiato Che accade in cielo Si trova in Daniele, capitolo 7, versi 9 e 10 E poi leggeremo anche i versi 13, 14, 18 e 21 e 22 Salto i versetti Perché non abbiamo il tempo Di studiare tutto ciò che c'è in mezzo E dovete capire le tre fasi del giudizio In questi versetti Leggiamo Daniele 7, versi 9 e 10 Il contesto storico è immediatamente dopo I 1260 anni di dominio del piccolo corno Cioè, questo evento accade dopo i 1260 anni Di dominio del piccolo corno Se abbiamo tempo Vi mostro che questo giudizio È iniziato nel 1844 Ma per queste cose dobbiamo studiare Daniele 8, verso 14 Fino a 2300 giorni Poi il santuario sarà purificato Ma dato che non c'è il tempo Ora dovete ricordarvi che questo giudizio Avviene dopo i 1260 anni Di dominio del piccolo corno Daniele 7, verso 9 Io continuai a guardare Finché furono collocati i troni E l'antico di giorni si assise Chi è l'antico di giorni? È Dio Padre E dove vive? In cielo Noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli Quindi dove accade? In cielo Io continuai a guardare Finché furono collocati i troni E l'antico di giorni si assise Lui si siede Quindi prima non si era seduto In quel particolare trono Ora c'è la descrizione Dell'antico di giorni La sua veste era bianca come la neve E i capelli del suo capo Erano come la napura Il suo trono era come fiamme di fuoco E le sue ruote come fuoco ardente Un fiume di fuoco scorreva Uscendo dalla sua presenza Mille migliaia lo servivano E miriadi di miriadi Stavano davanti a lui Chi sono loro? Sono gli angeli E vivono in cielo Dove vive l'antico di giorni Questo accade in cielo Ora notate la fine del verso 10 Il giudizio si tenne E i libri furono aperti Avete capito? Se leggete il verso 8 Trovate che ciò accade Dopo i 1260 anni Di dominio del piccolo corno Questo giudizio avviene così Dice Il giudizio si tenne E i libri furono aperti Perché si aprono i libri? Perché si investigano i casi Di tutti quelli Che dicono di essere cristiani Vi chiedo Chi appartiene al sistema Del piccolo corno Dice di appartenere a Gesù Cristo? Sì Perché è un sistema Religioso Cristiano Falso Apostata Ci siete? Quindi Il piccolo corno È un sistema Che dice di servire Cristo Ora Notate che si tiene il giudizio Si siede l'antico di giorni Si aprono i libri per esaminarli E il verso 13 e 14 Dicono qualcosa di molto interessante Il padre si è mosso Ma ora Dov'è il padre? Si muove un'altra persona A proposito Questo è il luogo santissimo Il verso 13 dice Io guardavo nelle visioni notturne Ed ecco sulle nubi del cielo Venire uno simile A un figlio dell'uomo Cosa sono le nubi? Sono angeli Molto bene Dove sta andando? Questo è il secondo ritorno di Cristo? No No Dice Egli giunse fino all'antico di giorni Dove? In cielo Molto bene E fu fatto avvicinare a lui Chi è che lo fa avvicinare? Le nubi Gli angeli Quindi dice E fu fatto avvicinare a lui Perché il figlio va dov'è il padre? Notate il verso 14 A lui Chi è lui? Il figlio dell'uomo E chi è? Gesù A lui Fu dato Chi è che sta dando? Dio padre Quindi dice A lui fu dato dominio Gloria E regno Perché Gesù va alla presenza del padre in cielo? Lui va a ricevere il regno Il padre suo Gli darà il regno Ovvero Il giudizio è collegato a Gesù Che riceve il regno Poi continua dicendo A lui fu dato dominio Gloria E regno Perché tutti i popoli Nazioni e lingue Lo servissero Il suo dominio è un dominio eterno Che non passerà E il suo regno È un regno Che non sarà mai Distrutto Ma ora c'è un dettaglio interessante Gesù riceve il regno Ma poi lui lo dà Ai santi dell'altissimo Notate cosa troviamo nel verso 18 Verso 18 Poi I santi dell'altissimo Riceveranno Riceveranno il regno E lo possederanno Per sempre Per l'eternità Poi notate il verso 21 Questa è una ripetizione Di ciò che abbiamo già notato Nel verso 13 e 14 Dice Io guardavo E quello stesso corno Faceva guerra ai santi E li vinceva Finché Giunse l'antico di giorni E fu resa giustizia Ai santi Dell'altissimo Il giudizio è a favore dei santi In cielo Ora lui dice E venne il tempo in cui I santi possedettero il regno Capite il significato? In questi versi Ci sono tre fasi Numero uno Inizia il giudizio Si aprono i libri E chi ha creduto in Gesù Viene esaminato Per il giudizio Poi L'esaminazione Finisce E a chi è dato il regno Il regno È dato a Gesù Avete capito? Gesù riceve il regno Ed infine Le persone del regno Ricevono il regno Ellen White Aveva capito queste cose Dobbiamo capire Cos'è il regno Di solito Consideriamo il regno Come un posto Geografico E diciamo che Questo mondo Sarà il regno di Cristo Ma in realtà Il regno è composto Da chi è salvato Le persone del regno Sono il regno Vi chiedo In che modo Gesù Determina chi appartiene A questo regno Attraverso il giudizio Investigativo Il regno di Gesù È istituito Quando è deciso L'ultimo caso Sì perché Sono rivelati Tutti coloro Che appartengono Al suo regno Ellen White Lo aveva capito Molto bene Primi scritti Pagina 280 E parla di quando Termina il giudizio E l'ultimo caso È stato esaminato Ogni caso È stato deciso Per la vita O la morte Mentre Gesù Amministrato Nel santuario Il giudizio E aggiungo Investigativo Perché il contesto È questo Il giudizio Investigativo Procedeva per I malvagi No no Perché il giudizio Prima del secondo ritorno Esamina solo i giusti Molto semplice Quando Gesù torna Prenderà i giusti in cielo Quindi deve sapere in anticipo Chi deve essere preso Chiaro? Non lo fa con i malvagi Perché loro non devono essere presi Essi vengono esaminati Durante e dopo il millennio Perché non devono essere presi in cielo Al ritorno di Gesù Ma i giusti Devono essere esaminati prima Perché Gesù deve rivelare L'universo Chi ha il diritto Di essere preso in cielo Al suo ritorno Notate cosa dice Ogni caso è stato deciso Per la vita o la morte Mentre Gesù Amministrato nel santuario Il giudizio è proseguito Per i giusti deceduti E per i giusti viventi Ora notate cosa scrive Cristo ha ricevuto Il suo regno Cosa significa Che Cristo ha ricevuto Il suo regno? Ora ce lo spiega Avendo espiato il peccato Del suo popolo È cancellato I loro peccati Sentite la spiegazione I sudditi del regno Sono stati determinati Cosa significa Che Gesù riceve il regno? Significa Che sono determinate Le persone del suo regno Chi è un vero suddito Di Gesù Cristo Chi di voi ha capito Cosa sto dicendo? Alzate la mano Lode a Dio La metà di voi Lei continua Il matrimonio dell'agnello È stato consumato Il regno E la grandezza del regno Sotto tutto il cielo È stato dato A Gesù Lei commenta Daniele 7 È agli eredi Della salvezza E Gesù Doveva regnare Come Re dei re E Signore Dei Signori Capite perché Il padre Si è seduto E i libri Sono stati aperti Verranno esaminati I casi Di tutti i presunti Cristiani A partire da chi è morto Continua con i morti E finisce con i viventi Quando ogni caso È stato completato Il regno di Gesù È istituito E quando il regno È istituito Avvengono tre cose Accadono tre eventi In successione Numero uno La fine del periodo Di prova umana Quando è determinato Ogni caso Per la vita O la morte Di chi dice Di essere cristiano Il giudizio è concluso Gli ingiusti Non possono più Diventare giusti E i giusti Diventare ingiusti Ogni caso È deciso Per sempre E dopo che termina Il giudizio investigativo C'è un tempo Di tribolazione Mai visto Nella storia del mondo Durante il tempo Della tribolazione Il popolo di Dio Sarà nel mondo E dimostrerò Che tutti quelli Che sono trovati Degni di essere salvati Saranno in questo mondo Dopo la grande tribolazione O il tempo di tribolazione Gesù verrà dal cielo E libererà il suo popolo Dopo che i casi Sono stati decisi Ci sono tre eventi La fine del giudizio investigativo Il tempo della tribolazione E il secondo ritorno Di Gesù Cristo Per salvare Il suo popolo E dirò che l'idea Della fine del giudizio Investigativo Prima del secondo ritorno Di Gesù È un'altra credenza Che ha soltanto La chiesa avventista Le chiese conservatrici Credono Che Gesù tornerà Sette anni prima Del suo glorioso ritorno Verrà e rapirà la chiesa E lui porterà I giusti in cielo Per sette anni E dopo i sette anni Gesù tornerà Con i santi Chi aveva preso Distruggerà Chi era contrario Al suo regno Ed instaurerà Il suo regno millenario Qui nel mondo Non conosco Altre chiese Che credono Che il tempo di prova Termina prima Del ritorno di Gesù E poche chiese Credono Che il popolo di Dio Attraverserà La tribolazione Dopo la fine Del tempo di prova Prima del secondo Ritorno di Gesù Cristo In questo studio Vedremo Qualche immagine Della fine Del tempo di prova Del tempo Della tribolazione E della salvezza Finale Del popolo di Dio Innanzitutto Andiamo nel libro Della Genesi Perché qui C'è il modello Per capire Questi tre punti Temporali La fine del tempo Di prova Il tempo Della tribolazione E la gloriosa salvezza Ora Tutti sappiamo Che Prima del diluvio Dio volle Che Noè Proclamasse Il messaggio Del giudizio Noè Predicò Per centovent'anni E il messaggio Era accompagnato Dal potere Dello Spirito Santo Perché Genesi Sei tre Dice Lo Spirito Mio Non contenderà Per sempre Con l'uomo Ma contenderà Con l'uomo Per centovent'anni Il messaggio Di Noè È accompagnato Dalla potenza Dello Spirito Santo Noè Predicò Centoventi anni Vi chiedo In questo periodo La gente Poteva scegliere La salvezza O la dannazione Assolutamente Sì Questo era Un messaggio Di giudizio La gente Decideva Come rispondere Al messaggio Assolutamente Sì Era un messaggio Di giudizio La gente Doveva decidere A favore O contro La verità Poi Noè Era davanti Alla porta Dell'arca La sua famiglia Era nell'arca E lo immagino Davanti alla porta Per l'ultima volta E tutti questi animali Dentro Questa enorme nave E Noè dice Per l'ultima volta Gente Chi è dentro Si salverà Chi è fuori Morirà Per il diluvio Per favore Rifugiatevi Nell'arca E la proposta Di Noè Viene ridicolizzata Così Notate che Accadano Tre Eventi Molto Importanti Il punto 1 È in Genesi 7 Verso 16 Vedete La Genesi È il modello Per tutta la Bibbia Genesi 7 Verso 16 Parlando Degli animali Dice Entrarono Maschio E femmina Di ogni carne Come Dio Aveva comandato A Noè Ora la frase Principale Poi l'Eterno Li chiuse dentro Chi chiuse la porta Dio E i casi Erano terminati O per la vita O per la morte I giusti dentro l'arca Non potevano più Essere malvagi Come quelli di fuori E chi era fuori Non poteva entrare Tutti i casi Erano decisi I salvati Erano salvi E i perduti Erano perduti Ora C'è il secondo punto Ha iniziato a piovere Appena è stata chiusa la porta No Quanti giorni sono passati Prima della pioggia Sette giorni pieni Iniziò a piovere l'ottavo giorno Perché passarono sette giorni pieni Vi chiedo Durante quei sette giorni La fede di Noè e della sua famiglia Fu provata? Assolutamente Il primo giorno Niente pioggia E così per il secondo Il terzo Il quarto Sino al settimo giorno Niente pioggia Cielo pulito Vi chiedo Fuori dall'arca Come si comportavano i nemici di Noè Per ogni giorno che passava? Ogni giorno diventavano sempre più violenti Contro Noè e la sua famiglia Durante i sette giorni La fede di Noè e della sua famiglia È provata severamente E i nemici fuori dall'arca Diventano ogni giorno più violenti Ma Dopo la fine del settimo giorno La mattina dell'ottavo giorno Cosa accade ai malvagi? I malvagi vengono distrutti E il popolo di Dio è salvato Ci siete? I tre punti temporali sono La chiusura della porta La prova della fede E i giorni di vittoria dei malvagi Ma infine I malvagi vengono distrutti E i giusti salvati Ora Vorrei andare All'applicazione Che Gesù fece Di questa storia Matteo 24 Dal 37 al 39 Matteo 24 Dal 37 al 39 Gesù fa un parallelo Tra ciò che accadde Ai giorni di Noè E ciò che accadrà Alla fine del tempo Qui Gesù dice Ma come fu Ai giorni di Noè Così sarà Anche alla venuta Del figlio dell'uomo Vedete? Con fronte ai due eventi Come fu Ai giorni di Noè Così sarà Anche alla venuta Del figlio dell'uomo Infatti Come nei giorni Che precedettero Il diluvio Le persone mangiavano Bevevano Si sposavano Ed erano date in moglie Ed ora c'è un tempo Fino a quando Noè Entrò nell'arca Quindi il primo punto temporale È segnato quando Noè Entra nell'arca Ma notate qualcosa di interessante Fino a quando Noè entrò nell'arca E non si avvidero di nulla Finché Venne il diluvio E li portò Via tutti Vi chiedo Cosa non sapevano I malvagi Tra la porta chiusa E l'inizio Della pioggia Essi non sapevano Che la chiusura Della porta Li condannava Quindi Gesù dice Come fu allora Noè Entrò nell'arca Passano sette giorni In cui I malvagi Non sanno Di essere perduti Ma poi arriva la distruzione Ed essi capiscono Di essere perduti Gesù dice Così sarà pure All'avvenuta Del figlio dell'uomo È possibile Che il tempo di prova Per il mondo Termina prima Del secondo ritorno Di Gesù Cristo Che distrugge I malvagi Assolutamente Sì Qui Gesù Lo dice Vi do un altro Confronto In modo da capirlo Meglio Gesù dice Che verrà Come un ladro Di notte Conoscete Quei versi Un ladro Nella notte Quante fasi Ha La venuta Del ladro Ne ha Due Supponiamo Che A Fresno A dicembre È un giorno Freddo Con molta Nebbia Molto freddo Tu hai Lavorato Duramente Tutto il giorno Ti siedi Guardi le notizie Hai avuto Una buona cena Quindi decidi Di andare a letto E sotto le coperte Si sta bene Al caldo E in quel momento Ti ricordi Di non aver chiuso La porta A chiave Tu stai bene Al caldo E non ti vuoi alzare Io vivo In questa casa Da 25 anni E non è mai Entrato un ladro Non accadrà Stanotte E allora ti addormenti Ed ecco A mezzanotte Arriva il ladro Lui trova la porta aperta Ed entra in casa E ruba tutto ciò che trova Chi sta dentro la casa Sa che è arrivato il ladro? No Perché non vegliano Ma dormono E quando capiscono Che il ladro È arrivato La mattina Ma è troppo tardi Lo stesso accadrà Alla fine del tempo Il tempo di prova termina E Gesù viene come un ladro Venire come un ladro Non è il secondo ritorno Ma è la fine Del tempo di prova Cosa accadrà Alla maggioranza Della gente del mondo E persino ai cristiani Loro dormiranno Perché non veglieranno Quando scopriranno Di essere perduti Quando Gesù viene Sulle nuvole del cielo E loro capiscono Di essere perduti Ma la loro prova Termina Prima del secondo ritorno Di Gesù Capite cosa dico? Quindi Abbiamo questi tre punti Temporali La porta chiusa Il tempo della tribolazione Poi la distruzione Dei malvagi E la salvezza Dei giusti Nelle storie Che studieremo Abbiamo molte cose In comune Vediamo le cose In comune Con la storia Di Noè Ai tempi di Noè C'era un rimanente fedele? Chi era? Noè Giusto? Noè aveva dei nemici? Sì I nemici che si beffavano Delle sue prediche Vi chiedo Noè e la sua famiglia Passarono un tempo Di angoscia Nell'arca? Durante il tempo Di tribolazione La loro fede Fu provata? Assolutamente sì Dio li liberò subito O ci fu un ritardo? Ci fu un ritardo Ma alla fine Dio li liberò? Sì Notate che troveremo Sempre queste caratteristiche In tutte le storie Che studieremo Un rimanente fedele I loro nemici Un tempo di angoscia Per il rimanente La fede del rimanente È provata Il rimanente Non è salvato subito C'è un ritardo Ed infine Dopo il ritardo Dio salva Il rimanente Ora leggiamo Il verso Che abbiamo Nello schermo Michael Sorgerà Andiamo in Daniele 12 Verso 1 Vi devo dare il contesto Che lo precede Prima si parla Di un potere Chiamato Il re del nord Il re del nord Viene per distruggere Il fedele popolo Di Dio Questo è il contesto In Daniele 11 Questo potere È chiamato Il re del nord Ma è chiamato Piccolo corno In Daniele 7 E 8 È chiamato Bestia In Apocalisse 13 È chiamato L'uomo del peccato In 2 Tessalonicesi 2 È chiamato L'abominazione Della desolazione In Matteo 24 È chiamato Prostituta In Apocalisse 17 È chiamato Anticristo In 1 Giovanni 2 Nomi diversi Per enfasi Diverse Ma il re del nord È il piccolo corno È come la bestia Il papato Il potere Di cui abbiamo parlato In questi video Quindi Daniele 11 44 45 Parla del piccolo corno O la bestia Chiamato Re del nord Che viene a distruggere Il popolo di Dio E quando sta per distruggere Il fedele popolo di Dio Accade qualcosa Notate Daniele 12 1 Ci sono quattro punti Da notare Daniele 12 Verso 1 E la parola chiave È salvato Ricordatela Salvato La parola salvato È usata solo in tre capitoli Di Daniele Daniele 12 Verso 1 Daniele 3 Dove tre ragazzi Sono gettati Nella fornace ardente E in Daniele 6 Dove Daniele È gettato Nella fossa Dei leoni La parola salvato È usata solo In questi capitoli Ricordatelo perché Più avanti Ci ritorneremo Leggiamo Daniele 12 Verso 1 In quel tempo Quando il re del nord Ovvero il piccolo corno La bestia L'uomo del peccato L'abominazione Della desolazione La prostituta Prova a distruggere Il popolo di Dio In quel tempo Sorgerà Micael Chi è Micael? Micael È un nome Di Gesù Micael Significa Colui Che è Come Dio Micael Simbolizza Cristo Perché Micael Deve sorgere? In quel tempo Sorgerà Micael Il gran principe Il difensore Dei figli Del tuo popolo Quindi Micael Deve sorgere Per difendere Il suo popolo A questo punto Lui sa Chi è il suo popolo Perché Lo deve proteggere Domanda Cosa significa Che Micael Deve sorgere? Non leggiamo Il resto del verso Ma andiamo Nella parola Sorgere Per capire Cosa la Bibbia Intende Per Sorgerà Micael Quale punto Temporale È questo? Daniele 11 Verso 2 3 E leggo Dalla King James Version Perché In entrambi i casi La stessa parola È tradotta Dall'ebreo Daniele 11 2 3 Spiega Il significato Di sorgere E ora Ti farò Conoscere La verità Ecco In Persia Sorgeranno Ancora Tre Re Cosa Significa Ecco In Persia Sorgeranno Ancora Tre Re Significa Che devono Ancora Regnare Tre Re In Persia Devono Sorgere Per Regnare In Persia E continua E ora Ti farò Conoscere La verità Ecco In Persia Sorgeranno Ancora Tre Re Ma Il quarto Diventerà Molto Più Ricco Di Tutti Gli Altri Quando Sarà Diventato Forte Per Le Su Ricchezze Solleverà Tutti Contro Il Regno Di Javan Allora Sorgerà Un Re Potente Cosa Significa Allora Sorgerà Un Re Potente Significa Che Incomincerà A Regnare Non Dobbiamo Indovinare Perché In Daniele 11 3 Dice Allora Sorgerà Un Re Potente Che Dominerà Sorgere Significa Regnare Sul Regno Notate Anche Daniele 8 22 Daniele 8 22 Qui Si parla Delle Sette Corna L'equivalente Delle Sette Teste Nel Leopardo Notate Cosa Dice Il Corno Spezzato Questo È Il Corno Cospicuo E Le Quattro Corna Che Sono Sorte Al Suo Posto Sono Quattro Regni Che Sorgeranno Da Questa Nazione Ma Non Con La Stessa Sua Potenza Nel Libro Di Daniele Cosa Significa Sorgere Significa Iniziare A Regnare A Regnare Il Regno Quindi Sorgerà Micael Significa Che Gesù Inizierà A Regnare Lui Inizia A Regnare Perché La Prova È Terminata E Il Suo Regno È Istituito Mi Seguite Ora Ritorniamo A Daniele 12 Verso 1 In Quel Tempo Sorgerà Micael Il Gran Principe Il Difensore Dei Figli Del Tuo Popolo Ora Notate Il Secondo Punto E ci sarà Un Tempo Di Angoscia È La Grande Tribolazione E ci sarà Un Tempo D'Angoscia Come Non C'era Mai Stato Da Quando Esistono Le Nazioni Fino A Quel Tempo Quindi Questa È La Grande Tribolazione In Questo Periodo Il Popolo Di Dio È Nel Mondo Sì Perché Micael È Sorto Per Regnare E Proteggerli C'è Un Tempo Di Tribolazione Poi Continua A Dire In Quel Tempo Il Tempo Della Tribolazione Il Tuo Popolo Sarà Salvato Tutti Quelli Che Saranno Trovati Scritti Nel Libro Quando Sono Stati Scritti O Confermati Nel Libro Durante Il Giudizio Investigativo Ora Vi Rileggo La Dichiarazione Di Ellen White È Nel Mezzo Di Questa Pagina Ogni Caso È Stato Deciso Per La Vita O La Morte Mentre Gesù Amministrato Nel Santuario Il Giudizio È Proseguito Per I Giusti Deciduti E Per I Giusti Viventi Mentre Prosegue Il Giudizio I Casi Non Sono Decisi La Prova Non È Terminata Poi Lei dice Cristo Ha Ricevuto Il Suo Regno Avendo Espiato Il Peccato Del Suo Popolo È Cancellato I Loro Peccati I Sudditi Del Regno Sono Stati Determinati Quando Nel Giudizio I Casi Sono Esaminati Si Decide Quali Nomi Lasciare Nel Libro Vi Leggo La Dichiarazione Di Ellen White Sulla Fine Sulla Fine Del Giudizio Lei Dice Cristo Dice Al Vincitore Io Non Cancellerò Il Suo Nome Dal Libro Della Vita I Nomi Di Tutti Coloro Che Si Diedero A Dio Sono Scritti Nel Libro Della Vita E I Loro Caratteri Ora Sono Controllati Da Lui Questo È Il Giudizio Gli Angeli Di Dio Stanno Pesando La Dignità Morale Essi Controllano Lo Sviluppo Del Carattere Di Chi Ora Sta Vivendo Per Vedere Se I Loro Nomi Possono Restare Nel Libro Della Vita E Ciò Che Accade Nel Giudizio Investigativo È Mostrato Il Nome Di Chi Resta Nel Libro Della Vita Quando Gesù Si Alza Ci Sono Dei Nomi Che Restano Nel Libro Della Vita Ecco Perché Daniele 12 1 Dice Che Chi Sarà Salvato Nel Tempo Della Tribolazione Ha Il Nome Scritto Nel Libro Durante Il Giudizio Investigativo Il Nome Resta Nel Libro È Chiaro Quindi In Daniele 12 1 Ci Sono 4 Punto 1 Sorgere Significa Che Gesù Domina Il Suo Regno Perché Il Regno È Completo Lui Ha Terminato Il Giudizio Secondo Ora Il Popolo Di Dio Passa Un Tempo Di Tribolazione Mai Visto Nella Storia Del Mondo Poi Alla Fine Del Tempo Della Tribolazione Il Popolo Di Dio Sarà Salvato Solo Chi Nel Giudizio È Scritto Nel Libro Della Vita Vedete Tutti I Punti In Comune Di Cui Abbiamo Parlato Qui C'è Un Rimanente Fedele Sì La Gente C'è Il Del Nord E Su Sudditi Il Popolo Di Dio Passerà La Tribolazione Assolutamente Sì E La Loro Fede Sarà Provata Duramente Saranno Salvati Subito O Ci Sarà Un Ritardo Devono Passare La Tribolazione E Il Ritardo Ma Alla Fine Il Popolo Di Dio Sarà Salvato Quindi In Daniele 12 1 Troviamo Tutti I Punti In Comune Ma Da Dove Proviene Della Tribolazione Di Giacobbe Dobbiamo Andare Nel Libro Della Genesi Per Capire Cos'è Il Tempo Di Giacobbe Perché È Un Nome Molto Preciso La Storia Si Trova Nel Capitolo 32 E Ve La Raconterò Molto Velocemente Giacobbe Torna A Casa Dopo 20 Anni Di Esilio Perché Aveva Rubato La Prima Genitura Suo Fratello E Aveva Ingannato Il Padre Quando È Vicino A Casa Sente Che Suo Fratello Che È Il Nemico Arriva Con 400 Uomini Armati Per Distruggerli Tutti La Storia Dice Che Giacobbe E La Sua Famiglia Erano Indifesi Cioè Non Potevano Difendersi Da Esau E Dai 400 Uomini Armati Quindi Giacobbe Teme Per La Sua Vita E Per La Vita Della Sua Famiglia La Bibbia Dice Che Lui Temeva Che Dio Non L'avrebbe Protetto A Causa Dei Peccati Commessi 20 Anni Prima La Bibbia Dice Che Giacobbe Aprì Il Suo Cuore In Preghiera A Dio Pregando Con Un' Angoscia Tremenda Vi Leggo Alcuni Versi Di Genesi 32 In Cui Ed Scritta Quest' Angoscia Io Non Sono Degno Di Tutte Le Benignità E Di Tutta La Fedeltà Che Hai Usato Col Giordano Solamente Col Mio Bastone E Ora Sono Diventato Due Schiere Poi Usa La Parola Chiave Di Daniele 12 1 Il Popolo Di Dio Sarà Salvato Liberami Ti Prego Dalle Mani Di Mio Fratello Dalle Mani Di Esau Perché Io Ho Paura Di Lui E Temo Che Egli Venga Ad Attaccarmi Non Risparmiando Né Madri Né Bambini E Giacobbe Urla In Angoscia Salva Me È La Mia Famiglia Da Esau E Dai Quattrocento Uomini Con Cui Sta Arrivando La Bibbia Dice Che Mentre Lui Lotta In Preghiera Con Dio Arriva Una Persona Misteriosa E Lui Incomincia A Lottare Con Quella Persona Misteriosa Presto Giacobbe Scopre Che Questa Persona Non Era Normale Ma Era L'angelo Del Patto E Verso L'alba Giacobbe Non Lascia Andare Questa Persona Misteriosa Questa Persona Dice Lasciami Andare Perché Sta Spuntando L'alba E Giacobbe Dice Non Ti Lascerò Andare Se Prima Non Mi Avrai Benedetto Cioè Finché Non Mi Assicuri Che Sono Stato Perdonato E Che Proteggerai Me E La Mia Famiglia Questo Essere Vuole Andare Via Ma Giacobbe Non Lo Lascia Andare Finché Non Lo Abbia Benedetto La Bibbia Dice Che Quella Misteriosa Persona Domanda Il Nome A Giacobbe Lui Dice Giacobbe Ovvero Soppiantatore Questo Essere Misterioso Dice Il Tuo Nome Non Sarà Più Giacobbe Ma Hai Vinto Cioè Tu Hai Vinto E La Bibbia Dice Che Quest'uomo Misterioso Gli Cambia Il Nome Da Giacobbe A Israele Cioè Principe Di Dio Leggiamo Questa Lotta Di Giacobbe In Genesi 32 Dal 24 Al 29 Così Giacobbe Rimase Solo E Un Uomo Lotto Con Lui Fino Allo Spuntar Dell' Alba Quando Quest'uomo Vide Che Non Lo Poteva Vincere L'angelo Non Lo Poteva Vincere Gli Toccò La Cavità Dell' Anca E La Cavità Dell' Anca Di Giacobbe Fu Slogata Mentre Quello Lottava Con Lui E Quegli Disse Lasciami Andare Perché Sta Spuntando L'alba Ma Giacobbe Disse Non Ti Lascerò Andare Se Non Mi Avrai Prima Benedetto L' Daniele Poiché Tu Hai Lottato Con Dio E Con Gli Uomini E Hai Vinto Giacobbe Gli Disse Ti Prego Dimmi Il Tuo Nome Ma Quello Rispose Perché Chiedi Il Mio Nome E Qui Lo Benedisse Chi Era Questo Essere Misterioso Osea Capitolo 12 Verso 5 Ci Dice Chi Era Questo Essere Ricordate Daniele 12 1 Micael L'Arcangelo Giusto Giacobbe Lottava Con L'Angelo Del Patto Che Gesù Cristo In Persona Tra L'altro Gesù Non È Un Angelo Creato Lui È L'Angelo Del Patto È Il Figlio Di Dio È Il Messaggero Di Dio Sentite Cosa Dice Osea 12 5 Su Questo Evento Sì Lottò Con L'Angelo Non Con Un Angelo Ma Con L'Angelo E Vince Pianse E Lo Supplicò Quest'Angelo È Dio E Come Lo So Per Il Nome Che Giacobbe Diede A Quel Posto Genesi 32 Verso 30 Allora Giacobbe Chiamò Quel Luogo Peniel Perché Disse Ho visto Dio Faccia A Faccia E La Mia Vita È Stata Risparmiata Peniel Significa Faccia Di Dio E Giacobbe Dice Ho visto Dio Faccia A Faccia E La Mia Vita È Stata Risparmiata Quindi Giacobbe Lottava Con Gesù Cristo L'Angelo Del Patto Dell'Antico Testamento Vi Chiedo In Questa Storia Troviamo Tutti I Punti In Comune Certamente Abbiamo Un Fedele Rimanente Sì Giacobbe Ci Sono I Nemici Del Rimanente E Per Giacobbe C'è Un Tempo Di Tribolazione La Sua Fede È Provata Duramente Egli Grida In Cerca Di Sicurezza Dio Non Lo Risponde Subito Ma Dopo Aver Lottato Tutta La Notte Egli Viene Salvato Questo Descrive Il Tempo Finale Del Popolo Di Dio Leggetene Il Gran Conflitto La Descrizione Di Ellen White Della Lotta Di Giacobbe Che Rappresenta La Lotta Del Popolo Di Dio Alla Fine Del Tempo L'E 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 Si Si Trova In Geremia Capitolo 30 E Lo Vedremo Molto Velocemente In Geremia 30 C'è un Fedele Rimanente Il Rimanente Fedele Sono I Fedeli In Israele Quando Giunse Contro Di Loro Babilonia Guidata Da Nabucodonosor Il Nemico È Nabucodonosor Il Tempo Della Tribolazione È L'angoscia Dei Fedeli Che Furono Portati In Cattività Babilonia Dio Attese 70 Anni Prima Di Liberarli Dalla Schiavitù La Fede Di Israele Fu Provata Severamente Ma Alla Fine Dio Liberò Il Suo Popolo Dalla Schiavitù Babilonese Quando Venne Ciro E Decretò La Loro Liberazione Ora vi leggo il passaggio Geremia Capitolo 30 Verso 5 Così dice l'Eterno Noi abbiamo udito un grido di terrore di spavento e non di pace Informatevi e vedete se un maschio può partorire È un'angoscia così intensa che sembra come il parto di una donna Perché dunque vedo tutti gli uomini con le mani sui loro lombi come una donna che sta per partorire Perché tutte le facce sono diventate pallide Ahimè Perché quel giorno è grande Non ve ne fu mai alcuno simile Sarà un tempo di angoscia per Giacobbe Ma egli ne sarà salvato E Israele si salvò Certamente Poi c'è la punizione che spetta a Babilonia Nel verso 8 dice In quel giorno avverrà dice l'Eterno degli eserciti che io spezzerò il suo gioco dal tuo collo e romperò i tuoi legami Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo Ma quei di Israele serviranno l'Eterno il loro Dio e Davide il loro re che io susciterò per loro Tra l'altro questi non sono giorni letterali perché Davide era già morto da molto tempo Quando dice Davide si intende il dominio di Gesù Cristo Troviamo che la tempistica dell'angoscia di Giacobbe in Geremia capitolo 30 ha gli stessi punti comuni Ora ci restano altre due storie che dobbiamo trattare velocemente Matteo 24 leggiamo i versi 21 e 22 Vi do un po' di contesto Se guardate ai versi precedenti scoprirete che l'abominazione della desolazione è istituita e il popolo di Dio deve fuggire per la persecuzione Questo è il contesto Notate il verso 21 Perché allora vi sarà una tribolazione così grande Quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà Sembra Daniele 12 verso 1 vero? Poi dice E se quei giorni non fossero abbreviati nessuna carne si salverebbe ma a motivo degli eletti ricordate la parola eletti Quei giorni saranno abbreviati Dio avrà un rimanente e si chiamano eletti Secondo il contesto loro saranno perseguitati e scaperanno I nemici li inseguiranno La loro fede sarà provata severamente Non saranno liberati immediatamente I giorni saranno abbreviati ma essi passeranno per la tribolazione Il popolo di Dio sarà finalmente liberato dalla tribolazione Notate i versi dal 29 al 31 Dal 29 a 31 Ora subito dopo l'afflizione di quei giorni il popolo di Dio passerà alla tribolazione Il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti quindi gli eletti passeranno il tempo d'angoscia avranno angoscia saranno perseguitati la loro fede sarà provata assolutamente sì ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattroventi da un'estremità dei cieli all'altra quando Gesù tornerà per portarli a casa il popolo di Dio sarà liberato assolutamente sì di nuovo nella tribolazione finale ci sono gli stessi elementi che troviamo nelle altre storie ora dobbiamo guardare un'altra storia è la parabola del giudice iniquo è un brutto nome è la parabola della vedova tenace questo è un nome migliore tra l'altro dovete notare che nella parabola è usata la parola eletti la stessa parola che notiamo in Matteo 24 inoltre notate che questa parabola si applica direttamente al tempo della fine e come lo so perché prima della parabola Gesù parla dei giorni di Noè e di Lot paragonandoli con il suo ritorno la parabola finisce con ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra quindi la parabola si applica particolarmente agli eventi che stanno attorno al secondo ritorno di Gesù ora nella storia ci sono molti protagonisti c'è il giudice c'è la vedova la vedova chiede giustizia verso l'avversario quindi c'è anche l'avversario c'è un ritardo nella giustizia ma infine giustizia è fatta vedete gli elementi nella storia ora leggiamo la parabola poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi cioè perseverare nella preghiera dicendo c'era in una città un giudice qui il giudice rappresenta Dio che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo come può un giudice che non teme Dio o riguarda l'uomo simboleggiare Dio è attraverso il contrasto nella parabola Gesù dice che se un giudice ingiusto farà giustizia alla vedova quanto più Dio farà giustizia al suo popolo che ama il giudice ingiusto è confrontato con Dio attraverso il contrasto lo vedremo tra poco c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo c'era una vedova senza alcun sostegno terreno non aveva assolutamente nulla l'avversario l'aveva rovinata molti che hanno studiato la parabola dicono che il marito doveva grandi somme di denaro ai creditori e quando morì i creditori presero ogni cosa alla vedova per pareggiare la somma cioè lei non aveva più niente continua dicendo ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario colui che aveva preso tutto c'è un ritardo per un certo tempo egli si rifiutò di farlo poi disse fra sé anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo tuttavia poiché questa vedova continua a infastidirmi le farò giustizia ovvero lei non è andata una sola volta perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca lei continuava a tornare chiedendo che gli fosse fatta giustizia sul suo avversario lei non si arrendeva ora Gesù spiega il significato della parabola dal verso 6 e il signore disse ascoltate ciò che dice il giudice iniquo non vendicherà Dio chi rappresenta il giudice Dio non vendicherà Dio i suoi eletti la vedova rappresenta gli eletti il popolo di Dio perderà tutto la donna simboleggia la chiesa la prostituta rappresenta la chiesa apostata la donna povera una chiesa povera e cosa rappresenta la vedova la donna senza sostegno terreno simboleggia gli eletti di Dio nel tempo d'angoscia senza alcun sostegno notate non vendicherà Dio i suoi eletti la vedova che che gridano a lui giorno e notte Dio risponde immediatamente no che gridano a lui giorno e notte essi non demordono come fece Giacobbe assolutamente sì che gridano a lui giorno e notte cioè Dio non risponde subito alle loro preghiere poi dice sì io vi dico che li vendicherà prontamente poi chiede ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra troverà un gruppo di persone con questa fede facciamo un riassunto in questa parabola c'è un fedele rimanente chi è? il fedele rimanente è la vedova lei non ha alcun sostegno terreno proprio come il popolo di Dio durante la tribolazione la vedova ha un nemico che l'ha rovinata e rappresenta il diavolo nel nuovo testamento la parola avversario non è una parola normale è la parola greca antidikos è usata in 1 Pietro 5 8 il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare il nuovo testamento identifica l'avversario colui che ha tolto ogni sostegno terreno alla vedova con il diavolo la vedova ha passato un duro tempo d'angoscia lei è disperata e non possiede nulla la fede della vedova è provata severamente e anche la fede del popolo di Dio sarà provata severamente quando non avranno più alcun sostegno terreno e Dio non ha risposto subito alle richieste della vedova c'è un ritardo noi vogliamo che Dio ci dica sì o no ma Dio può dire aspetta a noi non piace quella risposta nel prossimo video capiremo perché Dio dice aspetta a chi passa il tempo d'angoscia ma dopo il ritardo la vedova venne salvata e ricevette giustizia vedete che tutte queste storie hanno dei punti in comune la cosa più bella è che anche se la fede del popolo di Dio sarà provata severamente il popolo di Dio urlerà dall'angoscia nel tempo della tribolazione perché perderà ogni sostegno terreno nelle prove future Dio risponderà in ritardo al suo popolo la buona notizia è che alla fine di queste storie come quella che studieremo nel prossimo video Dio interviene per salvare il suo popolo dai nemici e per dargli il premio questa è la bellissima notizia nel tempo d'angoscia Dio salverà tutti quelli che sono trovati scritti nel libro sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Sottotitoli